ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi è l'ultimo giorno di campagna 7 che vale appunto fino valeva fino alle 18 ma oggi causa mal funzionamento sia di sito che di applicazione per poterlo inviare allora hanno prorogato la scadenza al 21 sempre di oggi lo vediamo e come il prodotto iniziale di prima pagina il lancio del nuovo mascara lunghezza e volume voglio tutto perché con le ciglia size matter e abbiamo anche un far away come offerta esclusiva di campagna quello classico con tanto di pagina microcapsulata 12 euro e 99 per chi acquista un questo è la novità e mascara novità che dona lunghezza volume ed è all'altezza di ogni aspettativa soddisfazione garantita perché ci sono sceglia più lunghe offre sceglia più lunghe fino al 50 per cento e volume fino a tre volte di più eccolo qua questa novità col cento per cento di persone concorda che le ciglia sono molto lunghe avevo leggendari lens lunghezza parecchio effettiva solo colore black appunto da una grandissima un grandissimo volume vediamo il risultato questo essenza e questo è con e questa è la novità di campagna prova di sbavature grumi residui e lunga tenuta tutto il giorno a 8 euro 99 insieme a leggendari mascara nuovo abbiamo un'offerta appunto matita più ombretto a scelta oppure glimestick a scelta poi vabbè ci sono le nostre linee premose in gel della glimestick un prodotto da 5 stelle che sono addirittura ci sono scusate ci sono delle recensioni che ci dicono che sono l'uniche matite che riesco usare per i miei occhi delicati li adoro un mannino ma che esti messaggi ragazzi oggi sono le tonalità io vado avanti perché tutto il professionale per soffracciglia scolpite in pochi secondi anche questo abbiamo due matita scelta 8 euro e 50 per le sopracciglia un prodotto modellante molto pratico che facile da usare e di facile stesura anche principianti e queste sono le tonalità poi c'è tre in uno fondotinta radioso correttore cipria che io adoro perché è un treno quindi è ci facilita la vita 2 fondotinta scelta a 14 euro e 90 ricordo che ahimè è l'ultima opportunità per questo catalogo a questo prezzo una come si dice una persona l'ha giudicato ha dato il suo feedback dicendo ottimo non unge la pelle copre le imperfezioni e non si sente è vero così è leggerissimo gli smalti manicure delle meraviglie in 60 secondi asciuga due smalti a scelta 4 euro e 90 e queste sono le tonalità e poi c'è il colore matte a prova di vita attiva con le 16 ore di durata intensa con la tinta labbra fa oesteia avuto 16 ore garantite e dura anche 24 e quando hanno dato come fantastico feedback fantastico perfetto anche dopo pranzo dopo cena non sbava mai infatti una volta venisse 2 a 13 90 con tutte le tonalità vada avanti perché questo è il prodotto comfort matte oltà vellutato un rossetto uta matte tutte queste tonalità che c'è sarà c cliente avono online il colore bellissimo finish matte ma confortevole durata ottima ne proverò altri poi c'è beauty bar e labbra col colore ultra cremoso rossetto ultra cream la tinta 24 ore di colore labbra matte power stay e l'altra tinta colore matte rossetto la gente consistenza leggera lunga tenuta in un colore leggero che non appiccica per i rossetti sempre però stay che durano dieci ore la bellezza dei prodotti pavo e stay che non sono no transfer anche i costi i fondotinta naturalmente sono uno transfer effetto a specchio con i gloss andiamo avanti questi sono più di parla bra joss perfetto specchio metallico tutti i gloss altro grosso altro corsa emolliente labbra gross matita contorno labbra green stick questo è il prodotto super effetto sollevante senza precedenti veramente solleva le ciglia in modo colorato addirittura questi sono ciò che pensa la gente effetto sollevante fino a quattro volte in più volume fino a 6 volte in più ottenuta al 24 ore c'è una cliente che ha detto che è differente dagli altri che ci si trova bene molto incredibile è pienamente soddisfatta poi c'è la supreme che un altro per queste e primer illuminati volumizzante che perché anche le ciglia hanno bisogno di nutrimento e potuti mascara best seller eccetera eccetera quello 51 che idrata protegge il volumizza levita e non fa grumi ce n'è di tutte ma non è intanto di tempi rini blime stick glamour online best seller durano tutto il giorno un ottico sfogno gli ombretti favostei no questo è una palette da sogno 6 in 1 che ha finito il look con questa palette formato mini che si trasformeranno ti trasporteranno in un sogno queste sono molto luccifosi anche cose e poi un prezzo risorio di 10 euro e 99 sono ombretti però c'è chi lo usa anche come in place questo insegna come applicarlo prima piega figlia e dopo il le pinzette e poi dopo non so se si vede ma in data parte questa è una novità look caldo e solare con i bronzi in power powder terra solare bronze in club e contanto di pennello kabuki con cui possiamo applicarlo luminosità istantanea diffusa con l'illuminante in gel viso e corpo effetto bronze bronze in due tonalità anche questo applicabile con questo pennello qui vado avanti perché i prodotti non sono nuovi le perle solari che sono meravigliose tutti danni il mix di luminosità e abbronzatura trovate la cosa brutta mi partace questa beauty bar allora questo è fondotinta tutti fondotinta a contro tra questi di primer cento per cento matte certo per cento tu cioè acquistando un fondotinta al secondo c'è al 50 per cento di sconto consiglio di usare due fondotinta uno più chiaro uno più scuro uno scuro per il contouring questi sono primer una perfezionante un forno per tutti i tipi di pelle regolatore luminosità poi sempre merita tante nasce più compatta lo spray fissante per uno ci faccio a lunga tenuta che io uso anche come il primer spesso il trucco ve lo scordate anche quando vi mettete lo spray fissa manicure e tutti gli smaltini mi raccomando mettere la base top coat prima così dura un po di più qui è tutta la cura per le unghie questo è ottimo perché un'ottima base non è anche un trattamento questo nello smalto e non c'è acetone asciuga smalto rapido questa è la bb cream smalto non a bb cream praticamente ha un colore cremoso impeccabile levica e uniforme copre le imperfezioni protege prepara e riempire le irregolarità e questi sono colori tutti i pennelli mamma mia questi messaggi vi chiedo scusa ricordo pennelli vanno puliti almeno una volta ogni tanto qui c'è il codice di war sono un quadro poi mi viene da eccolo pulisci pennelli e come si usa col piegaciglia mi raccomando quando usate piegaciglia prima il piegaciglia e poi il mascare no si macchia tutto questo agno trattante si ero si ero con un'azione idratante messero trattante per le labbra roba di bursa new passiamo a color trend che è una linea più giovanile più economica ma non è male ora questa è una novità alla pelle spenta va data vitalità ed energia allora bisogna provare le maschere a strappo per il viso e che lasciano una pelle liscia e dall'aspetto rivitalizzato e questa è una di queste che è arricchita con c'è scritto qua con pura fermenta di che fa di rame per contribuire a proteggere collagene della pelle va tenuta circa 15 minuti e poi tolta poi per gli occhiaie nomina l'aspetto dell'occhiaio in soli due giorni crema da notte con il crema da giorno correttiva del colore color correcting gel nitivo da notte mi raccomando come ogni prodotto della new c'è il protino a cui cielo qui stando un prodotto secondo 99 dicevo c'è il protino il protino che è importante perché c'è il brevetto che avevano ha vinto l'edward l'edison award per le creme a new e soprattutto periziero renewal power che poi vedremo che la crema sotto culare mi raccomando quando si dà queste creme l'ho messa proprio sotto l'occhio ma non proprio a contatto dell'occhio che fanno picchiolettate e andiamo sulla new a new ultimate quest'anno i prodotti secondo 99 inizia a tonificare la pelle in soli due giorni ridurre l'aspetto e dare delle rughe dare migliori radiosità alla pelle da 40 anni in su diciamo voce da reversa list che da 30 in su 30 40 e che serve a ri densificare la pelle in soli due giorni ed è dimostrato che vengono ridotte le linee sottili e la pelle fortemente idratata anche qui c'è il protino inizia il stimola collagene di tipo 3 e 1 inizia a stimolare l'effetto lifting in soli due giorni e qui da 50 in su con idratazione c elasticità e compattezza al massimo crema platino anche lui c'è l'offerta quest'anno un prodotto il secondo a 9 99 andiamo avanti eccolo il nostro siero vincitore dell'edison world 2021 100 per cento dei partecipanti ha riscontrato risultati nei test già a partire dalla prima applicazione a potenti benefici in soli sette giorni però vi ripeto già dalla prima applicazione si sente già una grandissima differenza in esottili per l'aspetto ridotto pelle per l'aspetto più tonico pelle per l'aspetto più irrigato pelle radiosa fuori per l'aspetto ridotto pelle che si sente forte non tira e pelle più elastica poi ci sono le fiale sempre completi in oro per sette giorni di collagene e la pelle si sente veramente rinata veramente poi c'è boom di radiosità con potere della vitamina c per donare alla pelle luminosità radiosità e radiosità perché la vitamina c a me al posti di tanti sappiamo eccoci qua dalle con questi messaggi poi abbiamo il siero pelle con tendenza acneica in perfezioni dual defense per migliorare le imperfezioni e la consistenza della pelle primi segni del tempo come un'azione complessa con l'acido salicilico tende a riequilibrare il microbioma superficiale della pelle che risulta più pura levigate dall'aspetto romani la crema all'acqua fantastica arricchita con vitamina d 72 ore di piena idratazione e da una pelle liscia infinitamente idratata in una settimana per una pelle più rinfrescata e luminosa molto idratata appunto qui sappiamo vado avanti perché qui questo è ottimo il seropotenziatore della luminosità mi soffermo su quelli che questa è la linea distillery che fantastica risultati effettivi formule delicate sulla pelle clean break ottimo per stupare anche power stay perché un burro ma essendo un burro non unge ma toglie ogni tipo di di make up e poi idrata a fondo cura vegana della pelle da mattina a sera una linea distillery aiuta anche è ottima per chi ha problemi di come si dice di allergie gravi alla pelle linee sottilitesi idratate questo ora adatto scusate messaggi per la menopausa produzione eccoci qua di collagene che viene raddoppiato per la menopausa chi l'ha provato ho detto che niente niente rampate il calore durante la notte è fantastico questo è clean iniziate canata cana passativa io uso la crema da giorno scusatemi